Quasi 1.400 studenti al via del prossimo anno scolastico con un totale di al momento 15 sezioni. A fronte di 209 diplomati ci sono state 328 nuove iscrizioni. Si spiega anche così il boom del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara che vedrà tantissimi alunni al via il 12 settembre. Il dirigente scolastico Antonella San Vitale spiega a suo avviso qual è il motivo dell'aumento di così tante iscrizioni rispetto agli anni scorsi. Eh sì non centriamo non centriamo più già dall'anno scorso avevamo usato tutti tutti gli spazi anche quelli che non dovevano essere usati per la didattica tipo l'aula magna o dei laboratori siamo stati costretti proprio per la mancanza di spazio ad adibirli ad aule didattiche. Abbiamo iniziato un lavoro lungo e meticoloso e molto accurato con la provincia fin da febbraio data di chiusura delle iscrizioni perché a fronte di 209 ragazzi che si sono diplomati noi abbiamo 328 nuovi iscritti per cui chiaramente abbiamo bisogno di spazio altrimenti io ero costretta e questo sarebbe stato gravissimo a mandare indietro le iscrizioni. Adesso proprio di pochissimi giorni la provincia ha concluso il contratto di locazione e quindi un piano dell'istituto Nostra Signora in via Gabriele d'Annunzio sarà la nostra succursale. Molti si chiedono perché sta tornando così di moda il liceo classico. L'ho accennato io penso appunto questo interesse realmente ad andare al fondo della nostra cultura ciò che ha originato la nostra tradizione è un unicum diciamo non solo in Europa ma nel mondo il liceo classico.